In località Peschioli è frequentatissima dai fedeli la grotta di San Franco, ritiro solitario in cui il santo, patrono di Assergi, meditava e pregava. La grotta è scavata in un grosso monolito quadrato e all'interno è evidente il lavoro dell'uomo. Il pavimento è piano e le reti sono tagliate perpendicolarmente mentre il soffitto è ad arco. La leggera insenatura che si vede nel pavimento è indicata dai fedeli come il guanciale di San Franco e un'incavatura più piccola sarebbe l'impronta del breviario che il santo riponeva dopo averlo letto a lungo. Assergi è una frazione della città dell'Aquila, i cui abitanti sono detti Assergesi, ubicata a circa 900 metri di quota sotto il versante occidentale del massiccio del Gran Sasso, in una piccola piana detta Piana di Assergi, posta al termine della Valle del Vasto che scende dal monte San Franco, passo delle Capannelle, lungo la strada statale 17 bis che dall'Aquila sale a Campo Imperatore. Vi transita un tratto della grande Ippovia del Gran Sasso. Il caratteristico borgo medievale è cinto da una serie di mura risalenti al mille ed oggi ben conservate e su cui si aprono tre porte ad arco a sesto acuto, dette orientale del Colle e del Rio. Molto interessante è la porzione muraria nord e l'accesso da sud della torre dell'orologio che era annessa all'antico castello. Il paese è apparso anche come ambientazione in gran parte delle scene del film La Roccia Incantata di Giulio Morelli del 1949. Le origini vestine del paese sono ben testimoniate dai ruderi dell'antica Prifernum, situata a poca distanza dall'attuale Assergi. Probabilmente scomparso già nel 200 avanti Cristo, si ricostituì in età romana ed in particolare al cento quando nell'area alle pendici del pizzocefalone venne edificato un piccolo villaggio, il Castrum Asserici, alloggio degli operai delle vicine miniere. Il centro si sviluppò quindi nel Medioevo intorno al monastero benedettino di Santa Maria Ad Silicem, da cui probabilmente deriva il nome di Asserici, divenuto poi Asserula e infine Sercio. Il paese venne interamente fortificato e nel 1200 partecipò con altri castelli del contado alla fondazione dell'Aquila.